Per realizzarsi là dove non appiglio le proprie radici, per avere un'opportunità per mettersi alla prova in una terra, in una regione che troppo spesso offre la sola possibilità di emigrare. Resto al sud è l'incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli under 46 nelle regioni del Mezzogiorno. Produzione di beni nei settori industrie artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, investimenti nel settore turistico tra le possibilità di accesso al finanziamento che per il 35% è a fondo perduto. Ciascun soggetto può richiedere fino a 50.000 euro, se la richiesta viene effettuata da una società con quattro o più aspiranti imprenditori si può arrivare fino ad un massimo di 200.000 euro. Si è tenuto nell'aula magna Vincenzo Ridonni della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Palermo l'incontro di Resto al Sud, i nuovi incentivi a sostegno della nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno. Seminario rivolto a studenti e professionisti e la presenza tra gli altri del vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao e di Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. L'incontro è stato introdotto dai saluti di benvenuto del rettore Fabrizio Micari. È chiaro che il modello è cambiato, il modello del posto fisso è qualcosa che ormai esiste sempre di meno, non esiste più del tutto. Iniziative come il resto al sud possono servire per stimolare quella auto imprenditorialità, quel puntare, quello scommettere su se stessi che indubbiamente per un ragazzo sono importanti. L'accedere al finanziamento in realtà è stato molto facile, basta essere eseguiti dalle persone giuste. Abbiamo creato un business planning, l'abbiamo presentato e da lì è partito tutto l'iter burocratico che ci ha permesso appunto di accedere ai finanziamenti del resto al sud. Questo progetto si chiama Resto al Sud, quindi ti devo chiedere perché hai deciso di restare al sud? Allora in realtà io ho pensato molte volte di emigrare in Alt'Italia, Resto al Sud appunto mi ha dato la possibilità di evitare di rinunciare alle mie radici e quindi riuscire a creare il mio futuro in questa bella terra che è la Sicilia.